Romani, Pelleteria, a Gorizia 86, sono arrivate le nuove borsette, Guess, guarda che borsette, per l'autunno e l'inverno, sono delle cose veramente speciali, cosa dici tu? Sì certo, ma ci sono anche moltissime altre marche, come Mini, Polo, Cromia, Moschino, la valigeria Chuck, Roncato, quante marche! Vi facciamo gli auguri anche a Romi, che forse aveva fatto compleanno, e anche la grandissima lì naturalmente, soltiamo la grande Patrizia, la titolare, e adesso guarda quante cose molto belle, hai visto le borsette? Sono arrivate finalmente le borsette nuove della Guess, eccole lì, mamma e figlia, guarda che borsette veramente speciali, guarda che se tu vai in giro una cosa così, e poi i prezzi, i prezzi, guarda la valigeria, per poter viaggiare a lungo. Tomani per l'eteria, corsi...